Oggi è venerdì 7 marzo, la nuova legge elettorale non c'è e non ci sarà. Lo ricordiamo al presidente Renzi che non solo lo aveva promesso, ma si era detto certo che oggi l'Italia avrebbe avuto la sua nuova riforma elettorale. Beninteso, niente di grave, questo non ci cambia la vita, ne cambierà le sorti del paese. Però tiriamo in ballo l'argomento per mettere tutti sull'avviso. Le belle parole di Renzi, le sue promesse vanno prese con le pinze. Non è che sia un bugiardo, non è che sia un imbonitore da strapazzo, attenzione, dice le cose che pensa. Pensa e parla in positivo Renzi e sotto questo aspetto è da ammirare, è da apprezzare. Non ha ancora imparato a fare i conti con la realtà. Non ha ancora capito che oggi tutti lo seguiano, tutti lo rispettano perché ancora non hanno trovato la formula, la strategia per affossarlo. Ma non appena la troveranno statene certi, Renzi o deve rifugiarsi nelle elezioni anticipate per salvarsi oppure finirà negato come eletta nel fiume melmoso della politica. Lui dava per certa, per oggi, la nuova legge elettorale. Non aveva fatto i conti con la realtà parlamentare. Il Parlamento per ora ha rinviato tutto, si dice, a lunedì. Ma anche questa è una funzione, vedrete. Chissà se si farà la settimana prossima e chissà quando si farà. Perché ci sono problemi politici da superare, molto più seri delle belle parole di Renzi. La parità di genere, ad esempio. Così si supera questo scoglio? Molto più facile è stato ieri affossare definitivamente il voto di preferenza, che naturalmente tutti volevano e che naturalmente la Camera ha regolarmente bocciato. La politica viaggia sempre su due binari. Renzi ci sembra aver preso il treno sbagliato. È il treno più moderno. È il treno più veloce. Ma chissà dove porta.